La 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 la... Effettivamente spendere un centesimo utilizzando solamente le vostre ditine bellissime, i vostri ditini fantastici, oltretutto farlo dall'applicazione su smartphone di YouTube estremamente semplice per cui fatelo e aiutate il canale, grazie. Bando alle ciance, cominciamo a parlare di news interessanti. Probabilmente sta arrivando una 4080 Ti o 4080 Super. C'erano dei rumors che giravano ormai da un bel po' di tempo sull'internet per quanto riguarda un refresh delle RTX 4000. Si vociferava di un refresh delle RTX 4000 già da un bel po' di tempo sull'internet e a quanto pare il gap che c'è tra la RTX 4080 e la 4090 sarà riempito giusto nel mezzo da una 4080 Ti o 4080 Super. Secondo le indiscrezioni, questo mostro di scheda video avrà la stessa GPU della RTX 4090, quindi la D102, avrà un TGP, quindi un Total Graphics Power, quindi la potenza massima che riuscirà a ciucciare dal vostro alimentatore sarà inferiore ai 450 Watt, avrà un bus di memoria di 320 bit, molto probabilmente 20 giga di GDDR6X perché la 4080 ha 16 giga, la 4090 ce n'ha 24. È giusto pensare che il quantitativo di GDDR6X sia appunto di 20 giga, giusto per andare a colmare il gap tra le due schede video. E cosa più importante, il prezzo sarà molto simile a quello della 4080, anzi da questi rumor si evince che praticamente sarà lo stesso prezzo, quindi 1199 dollari MSRP e dovrebbe arrivare nella prima parte del 2024, che ci sarebbe stata una 4080 Ti, questo era logico, in ogni generazione a partire dalla GTX 700 c'è stata un 80 Ti che diciamo era praticamente una delle migliori schede per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo perché offriva prestazioni superiori all'80, non era potente come una Titan o come le 90 delle scorse generazioni, ma veramente di poco, stiamo parlando di un 10% in meno di prestazioni volendo proprio esagerare, e il punto forte di questa scheda video era appunto il grande quantitativo di memoria RAM. A questo giro, se effettivamente questa 4080 Ti dovesse avere 20 giga di GDDR6X allo stesso prezzo della 4080, beh, innanzitutto sarebbe un ottimo prezzo per il prodotto offerto e in secondo luogo sarebbe un enorme calcio nei denti per chi ha deciso di acquistare una 4080. Pensandoci bene anche per chi ha voluto acquistare una 4090, perché appunto a livello di prestazioni non si andrebbe a perdere così tanto, ma si risparmierebbe un bel po' di denaro per quanto riguarda l'acquisto. Ad ogni modo, nei prossimi mesi vedremo cosa NVIDIA caccerà sul mercato e poi potremo trarre le nostre conclusioni. Ed effettivamente questa 4080 Ti potrebbe cominciare a scimmiarmi un pochettino, perché ok, la mia RTX 3080 fa ancora tutto ciò di cui ho bisogno in un tempo fantastico, con ottime prestazioni, però una 4080 Ti, cioè una 80 Ti, ci devo un attimo pensare su. La seconda news di oggi ha a che fare con le schede madri Asus e, più nello specifico, le schede madri con chipset Z790, quindi stiamo parlando di piattaforma Intel. Il 16 ottobre, quindi tra una settimana, dovrebbero essere annunciate nuove schede madri per quanto riguarda la line-up di Intel, che sarà portata precisamente al numero di 27 schede madri per quanto riguarda il chipset Z790. Stiamo parlando della ROG Maximus Z790 Dark Hero. Questa, secondo me, potrebbe essere estremamente interessante, perché per AMD sul chipset X570 uscì una Dark Hero, che era praticamente una Hero, però con un sistema di dissipazione passivo non attivo, il che potrebbe essere molto interessante, ripeto. Abbiamo poi una ROG Maximus, sempre 0790 Apex & Core, una Z790 Formula, una Z700i Gaming Wi-Fi Mark II, e sappiamo che Mark II è meglio di Mark I, quindi aspettiamoci grandi cose, una 0790A Gaming Wi-Fi Mark II, una Z790F Gaming Wi-Fi Mark II, e una TUF Gaming Z790 Pro Wi-Fi. Sette nuove schede madri che vanno praticamente a rimpolpare il roster di Asus, a partire dall'Enthusiast, come appunto la formula che è la scheda madre che può essere dissipata a liquido sul VRM, fino a toccare la TUF Gaming Pro Wi-Fi, che è una scelta più budget-friendly. Asus sa sicuramente quello che sta facendo e questa cosa potrebbe anche darci, sapete, qualche piccola informazione riguardo agli Intel di quattordicesima generazione, perché se una grande casa produttrice, partner da molti anni di Intel, decide proprio di, sapete, posticipare magari l'annuncio di schede madri col nuovo chipset, molto probabilmente questi Intel di quattordicesima generazione potrebbero essere, mi viene in inglese delayed, poi mi viene in italiano ritardati ancora di più, quindi diciamo che non è ancora troppo tardi per saltare sul treno degli Intel di tredicesima generazione, che sono, come sapete, delle CPU estremamente buone per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo, le prestazioni sono lì, potete scegliere comunque configurazione con DDR4 e DDR5, ad ogni modo, sapete, siamo ormai nel 2023, ormai siamo ottobre, quindi diciamo più 2024, prendere una scheda madre con della buona RAM DDR5 sarebbe in effetti una cosa buona e giusta, anche perché la DDR5, sono certo che dalla prossima generazione, ma appunto Intel ce l'ha confermato, sarà lo standard sia per Intel sia per AMD, magari una di queste schede madri che Asus annuncerà, ripeto, il 16 ottobre con un evento lancio, potrebbero essere effettivamente buone per qualcuno di voi che magari vuole, sapete, passare un pochettino alla casa blu, o magari rimanere alla casa blu, sapete com'è. Adesso parliamo un po' di AMD e di come il suo prodotto di punta per quanto riguarda il gaming si è effettivamente sceso di prezzo. Stiamo parlando del Ryzen 7 7800X 3D che ha avuto uno sconto molto molto importante negli Stati Uniti e che molto probabilmente si ripercuoterà sul mercato europeo e quindi anche qui in Italia. Questo 8 core 16 thread è infatti apparso sui siti di Newegg e Walmart con un prezzo di 399 dollari, il che, non ricordo l'uscita, se costasse 449 o 499 dollari. Ad ogni modo ha avuto uno sconto bello importante perché AMD molto probabilmente è arrivata alla conclusione che questo processore, che è il migliore al momento nella line-up della Casa Rossa per il gaming, beh, era cannibalizzato da suo padre, il Ryzen 7 5800X 3D. Sappiamo che nella linea di processori con cache 3D verticale di AMD per quanto riguarda i Ryzen 7000, il 7800X 3D era quello che aveva più senso. Costava relativamente poco rispetto alle controparti senza cache 3D verticale. Era estremamente efficiente per quanto riguarda il consumo energetico e aveva delle performance bestiali, assolutamente. Però questo fatto della 3D cache verticale era qualcosa che puzzava un pochettino a, sapete, i gamer soprattutto, che continuano a scegliere il Ryzen 7 5800X 3D, che sarebbe l'8 core 16 thread con cache 3D verticale della scorsa generazione. Parliamoci chiaro, con una CPU di questo tipo bisogna accoppiare una scheda video di fascia alta. Un processore di questa portata può tranquillamente spingere una 4080, una 4090, una 3090, una 3080, ovviamente a risoluzioni alte. Il problema a questo punto qual è? è che se si spinge un gioco a risoluzioni alte, il carico passerà più che dalla CPU sulla GPU. Ciò significa che le differenze che noi vediamo a bassa risoluzione tra un 5800X 3D e un 7800X 3D vengono praticamente annullate quando si comincia a giocare a risoluzioni di tipo 2160p o comunque 3440x1440 ad alto refresh rate. E dato che, giustamente, gli utenti continuavano ad acquistare il 5800X 3D che, contando processore, scheda madre e RAM, veniva a costare molto di meno del 7800X 3D con una nuova scheda madre e RAM DDR5, era semplicemente una scelta migliore, era semplicemente ottimizzare il budget per il proprio scopo. E allora MD ha detto, ma sapete che c'è? Ma quasi quasi, noi abbassiamo i prezzi, così magari convinciamo più persone a saltare sulla piattaforma Zen 4 sperando, naturalmente, che questo tipo di sconti possa arrivare anche da noi in Italia. Certo, Walmart e Newegg hanno abbassato il prezzo di questi processori perché c'erano delle promo in corso ma quando c'è una promo in corso significa che avete una sovrabbondanza di prodotto che non sarà venduto perché la gente sceglie un'altra cosa. Quindi, ripeto, questo evento mi fa ben sperare anche per i prezzi che ci saranno in Italia. Sì, mentre aspettiamo i nuovi Ryzen 8000, il 7800X 3D e il 5800X 3D sono ancora le scelte migliori per chi vuole un PC soltanto per giocare. E beh, non c'è nulla da dire. 90 minuti d'applausi ad AMD, davvero. Detto ciò ragazzi, queste sono le news più interessanti di oggi. Non abbiamo parlato di RTX 5000 perché fondamentalmente deve ancora uscire un refresh dell'RTX 4000 ma come è sempre stato, sappiamo benissimo che Nvidia ha aspettato sempre quei 6-7 mesi addirittura siamo quasi arrivati a un anno prima di far uscire una 80 Ti o comunque delle Super o comunque, non lo so, qualcosa di mezzo per quanto riguarda la line-up delle proprie schede video. Asus, come ho già detto, ci dà un altro indizio. Probabilmente gli Intel di 14esima generazione saranno ancora ritardati rispetto alla tabella di marcia che abbiamo supposto fino ad ora quindi va bene così. Per quanto riguarda AMD non c'è nulla da dire. 7800 X3D, 5800 X3D sono ancora le CPU migliori da gioco. E nulla, forza, abbassiamo sti prezzi. Lisa, ti prego, Lisa, abbassiamo sti prezzi. Forza che voglio un computer mega figo, mega strafico con questo 7800 X3D. Fatemi sapere la vostra ragazzi. Io vi ricordo, mi piace, commento, iscrizione al canale e soprattutto campanella. In descrizione trovate il canale Telegram con tutte le offerte del punto di G e soprattutto trovate i link ai miei social per seguirmi un pochettino in giro su Instagram per vedere cosa faccio, soprattutto su Twitch che sto un pochettino rimpolpando il palinsesto per portarvi dei contenuti un pochettino più particolari. Per cui nulla. Grazie mille di essere stati in mia compagnia e ci vediamo alla prossima. Sempre qui col vostro G, sempre qui sul punto di G. Ciao, ciao, belli. Sì, lo so, volevo fare il ciao, però c'ho la fotocamera là lontana che sto provando questa nuova lente che dà un effetto diverso, quindi va bene. Ciao.